Siamo qua amici a Malnate in via Gorizia e adesso andremo alla ferrovia della Valmorea, stazione Malnate Olona. Affrettiamoci, che Maurizio è già andato avanti. Qua c'è un po' di nubifragio, ecco che andiamo avanti, qua vecchie costruzioni, appoggio la videocamera qua. Ecco cari amici, ci troviamo dove c'è l'antica ferrovia della Valmorea che congiungeva Castellancia sulla linea ferroviaria Milano-Novara, delle ferrovie Nord Milano, la congiungeva nella valle Olona fino alla Svizzera e siamo a Malnate a 5-6 km dalla Svizzera. Vediamo, vediamo che siamo, dobbiamo, dobbiamo muoverci, si si, eh, qui dovevo muovermi, ecco il il fiume Olona, proprio il fiume Olona, eh, io stavo organizzandoli e allora ho perso un po' di tempo. Un'altra auto, ma, ma incredibile, doveva essere una stradina di campagna assolutamente senza... e qua vicino appunto adesso ci imbattiamo nella ferrovia Valmorea. Dai, dai, presentiamoci così. Oh, voglio dire, no, anche ai fan, siamo in Lombardia, è pieno di macchine dappertutto. Sì, ma non è... non è normale che puliscono un attimo. Eh beh, ma comunque... Non è normale. A me quando piove fare i filmati... Ma è incredibile, guarda, però ci dovevamo riuscire. A me quando ha avuto via 40 euro? Beh, non è una gran perdita, ma io non so com'è quello l'acqua. No, noi siamo... cari amici... cari amici? Abbiamo perso prima un po' di tempo per organizzarci tecnicamente perché piove. Dovevamo andare alla miniera di piombo, naturalmente non si poteva... Si può andare perché è un pantano. Abbiamo avuto l'unica idea fattibile. Andare su strada all'antica ferrovia della Valmorea. Ci siamo organizzati tecnicamente come il medio si faceva con la pioggia. Dando attenti per le tracciature elettroniche. Perché le tracciature elettroniche tenono l'umidità, esatto. Abbiamo avuto dell'esperienza, no? Come penso e spero mai in tutti, però... Va bene, ma noi non siamo come... ripeto, non ci regano l'intenzione, ci mettiamo il soldino. No, però, si, si si rompe la caglia. Se si rompe la caglia... Se si rompe la caglia... Se si rompe la caglia... ... tra la provincia di Milano e la provincia di Varese... ... lo confingeva e arrivava nella Vallolona fino all'Egistria. Però... Soprattutto... Si, perché era soprattutto per materiale... ...materiali delle fabbriche della Vallolona. E se ne della Vallolona ha perso la sua funzione industriale... ...come l'ha perso... ...hanno chiuso pure la ferrovia. Si parla sempre di... ...aprire la nuova legge. Parole. E... Purtroppo è... Così, il solito discorso. Adesso sono cento anni... Questa ferrovia ha cento anni. E... Quasi come me. In due... In due facciamo cento anni. Oh, non c'è... Scusatemi... Sto... Mi sono... Ho bevuto un quartino di vino... Eh... Mi ha fatto effetto... Eh... Dai, dai... Scherzare, dai... No, comunque il tempo... A parte gli scherzi... Quando il tempo è inclemente... Fare immagine al nostro rischio... Perché se si bagnano le... Eh... Si... Però... Si bagna soprattutto la scheda di memoria... Ah... Per carità... Siamo... Darglielo al ciccello... Eh... Non ci farà più... Abbiamo buttato via... Tempo... Eh... Come ti posso dire... Vabbè... Però invece... Speriamo che... Ci vada tutto bene... No... Speriamo... Noi lo speriamo... Speriamo proprio... Cari amici... Eh... Siamo qua alla ferrovia... Oh, ma qui... Il... La strada non è accidentata... Vedi Maurizio... Vedi Maurizio... Adesso c'è sempre l'asfalto... Tanto fa la curva... No... Vomito... Si... Ma tanto... Adesso c'è... Troviamo... Ecco la ferrovia... Ecco la stazione... La ferrovia... Ed è... Un itinerario... Assolutamente facilissimo... Ah... Ecco la ferrovia... Questa era l'unica speranza... Per fare un itinerario con la pioggia... Ah... Ecco... Binario... Triste... Solitario... Forse... Penso che... Non ho mai fatto... Ma... Si... No... Allora... Si parla sempre... Si dice sempre... Che questa ferrovia... La riapriranno... A parole... Quindi... Per intanto... Eh... Viene mantenuta... Eh... E così... Viene mantenuta... Tutto qua... Cari amici... La ferrovia... Non è accessibile al pubblico... Perché... Momentaneamente... È chiuso al pubblico... Non c'è... Passaggio... Veicolare... Di treni... Per il pubblico... E quindi... Non è accessibile... Da questa parte... Vedete... La stazione... Lì... Alla vostra... Destra... Quindi... Provederemo... Di andarla... A vedere... Dall'altra parte... Adesso... Con la prossima... Cari amici... Se la faremo... Fiode... Ce la faremo... Non so... Fedara... Bene... Caro... Adesso... Pranciamo... La chilometrione... Per... Per simplicity... La perrugherla da parte... La ferrovia della Valmorea, eccocela, potevano farci evitare di farcela vedere, no? Perché è giusto. Allora, noi possiamo arrivare, proprio per legge, fino a qua. Sì, qua c'è un prato, allora per legge possiamo arrivare fino a qua. No, no, non di più Maurizio, non di più di qua, perché per legge non si può andare sulla strada, sulla strada ferrata. Questa è l'antica ferrovia della Valmorea, dalla Svizzera fino a Castellanza, fino alla provincia di Milano congiungeva. Qui per esempio, adesso c'è un abbandono questa ferrovia, credo che la metteranno in funzione, prima o poi. Sì, sono qua, vi saluti. Eh, Gennaro, però per diciamo... Cari amici, dobbiamo riuscire ad andare dall'altra parte, a farvi vedere meglio ancora la ferrovia. Noi per legge ci manteniamo fuori dalla strada ferrata. Diamo nella legge, se andassimo sopra non va bene più. Siamo fuori dalla strada ferrata. Fuori dalla strada ferrata sono solo boschi, sentieri. I sentieri si possono percorrere, li percorrono tutti e noi dai sentieri vi faremo vedere la strada ferrata, ciò che si può vedere. Ciò che si può vedere. Bene, noi ci mettiamo la nostra buona volontà però, insomma. Sì, sì, ce la faremo. Ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo ragazzi. Siamo qui, siamo qui, corto mattese e Gennaro Germini. Alla prossima. Il fiume Olona, cari amici, mentre continuiamo a filmare. Mettiamoci su questa cabina dell'Enel. Sì, guardate qui. Ecco. Guardate qui, guardate qui. Questo è il fiume Olona, vero? Sì, il fiume Olona. Sarà, è caratteristico. Attenti a mettere il tempo, perché non basta. Molte nostre avventure. Il fiume Olona, c'è, c'è. Il fiume Olona, nome della zona e quindi caratteristico di molti luoghi che andremo a vedere. Ecco, di fatti. Il fiume Olona, stiamo filmando. Per come possiamo? Se il filmato non viene completamente professionale, è dovuto alle condizioni avverse del ponte. Io non sono capace di entrare dentro. La luce piove, però ce la facciamo. Guardate, questa è la casa che trovate davanti, abbandonata. Ci siamo trovati questa struttura che non sappiamo che cos'era, è stata messa in sicurezza. varie case abbandonate, come questa. Ecco il fiume Olona. Il fiume Olona, di là. il fiume Olona, tutto il bosco e poi continua di qua. Sempre il nostro caro fiume Olona. Di là i monti, le case. Io direi di fare il bosco dall'altra parte e arriviamo diretti. Proviamoci Maurizio. Proviamo a fare il bosco dall'altra parte e arriviamo diretti. Ok, facciamo il bosco dall'altra parte. Eccolo al fiume Olona, cari amici. La ferrovia abbandonata, di là, ci aspetta. Cari amici, adesso ci avviciniamo di più alla ferrovia. La stazione ferroviaria della Valmorea, per come possiamo. Lì. E lì, dietro ai boschi, la città di Malnate. Ecco, cari amici. Continuiamo il nostro percorso. Nella Torrevia della Balmorea. È un percorso corposo ma dobbiamo farlo. anche se il centro non ci aiuta perché sta piovendo di noto la rotta di collo qua c'è un vecchio macchinario deve essere una chiusa ma quello deve essere il cancello no 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 una chiusa per l'acqua si si? si si una chiusa per l'acqua si aspetta che sento qua si si c'è l'acqua si sente qualcosa è una chiusa per l'acqua si si la chiusa siamo qua al sentiero della Valporea grazie al sentiero del metanodotto siamo arrivati fino nei pressi della ferrovia adesso faremo riprese si in effetti piove più forte ancora piove perché l'importante è che ci siamo riusciti questa è la ferrovia la ferrovia di là c'è la stazione questo è il ponte che continua fino a là cari amici una bellissima giornata qui abbiamo il ramo della ferrovia in Valle Olona a Malnate siamo nella ferrovia della Valmorea e grazie appunto a questo sentiero del metanodotto siamo riusciti ad arrivare fin qui abbiamo fatto il possibile oggi 9 ottobre 2016 il genero giornino youtuber Mauri video attualità abbiamo fatto il possibile per farvi vedere un'antica ferrovia che dalla bassa praticamente dal confine con la provincia di Milano Castellancia congiunge fino alla Svizzera provincia di Varese fino alla Svizzera una ferrovia non più utilizzata e oggi siamo qui una ferrovia non utilizzata che può essere riaperta per il traffico sia merci ma anche turistico ma anche delle persone che per esempio da Milano vogliono spostarsi alla Svizzera sarebbe una ferrovia in più ma come da Varese si può fare un collegamento giù qua in Valle Olona e un collegamento in più con la Svizzera un collegamento ferroviario per non dover sempre passare da Como per non transitare da Como si può anche transitare dalla Valle Olona non attualmente ma si potrà ecco facciamo vedere Maurizio il sentiero da dove siamo venuti perché noi rispettando rispettando il luogo siamo passati siamo transitati dal sentiero del Metano d'Otto quindi assolutamente attenzione a non spallungarle giù sotto lì perché se no eh lì c'è il fiume Olona lì c'è il fiume Olona e questo c'è il fiume Olona c'è il fiume Olona che c'è davvero in travesto qua c'è il fiume Olona e questo vedete il sentiero del Metano d'Otto quindi siamo venuti giù alla ferrovia della Valmarea senza doverci passare tramite il sentiero del Metano d'Otto per chi volesse saperne appunto per chi volesse abbiamo costeggiato il fiume perché si costeggia il fiume il tempo sempre clemente oggi è il 9 di ottobre 2016 abbiamo costeggiato il sentiero del Metano d'Otto siamo passati sul sentiero del Metano d'Otto ma lì c'è riprendimi ho girato la macchina fotografica la videocamera perché addirittura transitava un corridore è transitato un corridore con la maglietta rossa vai che ne devi primo è passato allo stesso ci vede il si non propriamente però adesso siamo sul sentiero del Metano d'Otto per andare appunto a vedere la ferrovia della Valmarea ecco qua e possiamo rivedere un attimo se questo è un sentiero di boschivo che costeggia sia il fiume che la ferrovia si si anche in metà di podistini così siamo riusciti ad arrivare mi sento molto umido si terribilmente umido io dopo devo asciugare la videocamera vedete il Metano d'Otto che si vede ecco con tutta l'umidità che c'è passerebbe il tempo però abbiamo potuto anche azzardare di più ma siamo molto molto ecco qui di qua finisce e però ciò che si può vedere appunto è la la ferrovia tutta la ferrovia qui sotto scavaccia non possiamo arrivare ma noi non siamo assolutamente passati dalla ferrovia siamo passati dal sentiero del Metano d'Otto e adesso si può dire una bellissima esperienza una bellissima esperienza ferroviaria si è stata proprio una bellissima esperienza dimmi così una umida esperienza mentre mentre andiamo mentre andiamo ci fermiamo ci incamminiamo salutiamo tutti i fans tutti quelli che ci seguono quelli che ci vogliono bene anche quelli che non ci vogliono bene a seconda comunque noi abbiamo fatto questo sforzo in mani sotto una pioggia siamo riusciti cari amici ferrovia della Valmorea attualmente diciamo non funzionante non abbandonata ma non funzionante ed è un buonissimo congiungimento da Milano dalla bassa provincia di Varese Varese con la Svizzera con lago di Lugano senza dover transitare da Codo benissimo benissimo diretti sono soddisfatti quindi da Gennaro Gelmini e youtuber Mauri di provincia di Varese piove ridotto 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 è il biglietto che fanno per i bambini il treno io sono ridotto e io il treno penso il treno ridotto il biglietto ridotto no invece no noi paghiamo il prezzo intero che è ancora è quello arrivederci arrivederci carissimi al prossimo video non sappiamo quando lo sarà e seguiteci continuate a seguirci non ci abbandonate in una ferrovia qui in una ferrovia non abbandonateci anche perché sarebbe ingiusto e fili di conti noi facciamo quello che possiamo non chiediamo niente noi facciamo video cerchiamo di far video di far conoscere posti anche nuovi nella Lombardia adesso Lombardia certo poi noi dove possiamo arrivare da una questione non siamo loro signori comunque nonostante una giornata come questa abbiamo voluto documentare diciamo cosa c'è qui è stata abbiamo anche contratto case abbandonate cose inaspettate che poi monterò anche io il video lui monterà il suo video e vedrete con piacere belli seduti sulla sedia a casa non come noi io ho le scarpe e ho due canotti guardate qua non ho pensato come al solito riportare le scarpe alla montagna vabbè questi sono dettagli sono dettagli prima le mie questi sono dettagli è passata l'acqua dentro cioè piedi lunghi sono dettagli minimi comunque niente vi saluto non abbandonateci qui seguite i prossimi video adesso inizia la brutta stagione vedremo un po' che cosa ha abbiamo in servo di andare con sonno adesso vediamo un po' sì 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 abbiamo qui in servo con sonno paese abbandonato è in provincia di Lecco poi faremo anche quello guardate c'è una tasca c'è un cellulare e la videocamera ho dovuto salvare dall'acqua perché era una cosa impossibile veramente videocamera e il cellulare che ho nei tasconi da sacerdote qui e niente praticamente tutto bagnato anche il cellulare è tutto bagnato figuratevi voi cioè comunque io mi auguro che non saltino non salti qualche valvolina vero? se salta qualche valvolina noi siamo fregati dobbiamo mettere il video saluto tutti saluto tutti salutiamo salutiamo se funzioni adeguatamente il tutto e che si veda e che si veda perché noi ci teniamo insomma poi dopo le critiche giusto tutto quanto proviamo insomma abbiamo fatto quello che abbiamo potuto nelle nostre possibilità proviamo e ci siamo infatti riusciti saluto a tutti cari amici se no qua la videocamera a prendere acqua salute salute arrivederci ciao ciao arrivederci al prossimo video ciao a tutti si 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 speriamo in giro è accesa? speriamo in giro benissimo allora siamo giunti anche alla fine di questa sperimentazione con l'acqua e tutto quanto e niente devo dire che insomma la linea di massima si è andata bene perché vi abbiamo offerto lo spettacolo della ferrovia della Valmorea sulla quale non corrono più treni da un bel po' esatto provincia di Varese tra la provincia di Varese e provincia di Milano Castellanza provincia di Milano zona praticamente Bustarsiccio Gallarate Legnano Castellanza percorrere la Vallelona e arriva fino in Gicera bene niente io a parte diciamo il bagno fuori programma che abbiamo fatto però ce l'abbiamo fatto c'ho tutte le attrezzature bagnate comunque sono sempre qui siamo sempre qui noi speriamo di aver fatto qualcosa di buono ma comunque in ogni caso seguiteci sempre vi rimandiamo al prossimo video Genaro Gioiminni youtuber Mauri videoattualità Barbadura 9 ottobre 2016 Malnate provincia di Varese Capitano Barbadura di Genaro Gioiminni adesso mi vorrei sbarbare ma lo faccio a casa saluto tutti quanti mi raccomando ce l'hanno fatta di nuovo bene alla prossima a prossimo video teniamo la videocamera perché sennò al prossimo video qua piove non ce la faccio c'è una salamandra allora prendo in mano non è che ti muoce no 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 perché io le salamandre sono delle mie amiche si potrebbe dire e non mi fanno nulla le salamandre possono essere tossiche lasciano dei sentori tossici però assolutamente non a me perché io ho questa amicizia con le salamandre fai fai il filmato ecco la mia salamandrina la salamandra è un'amicizia particolare perché io firma firma pure tutto io andavo nei boschi ma si vede qua si si vedo adesso mi vedo si 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 io andavo nei boschi e trovavo le salamandre questa è una salamandra maculata ed è la regina dei boschi carina adesso lei si vuole liberare riprendi pure con me si lei si vuole liberare noi la liberiamo del nostro amore perché è natura la natura è amore ed è il nostro grande amore ah si è messa anche in cosa per essere guardata guarda guardiamo la salamandra com'è la salamandra carina se tu vuoi fare una ripresa poi guarda guardate la salamandra sul mio sul mio corpo sul mio corpo la salamandra che sale sul mio corpo guardate la salamandra sale sul mio corpo avete presente l'india con i serpenti questa oh mamma mia a tiro giù no 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 è carina ma spero di riuscire a fare il filmato guardate la salamandra sulla testa dei germini è una salamandra è incredibile guardate guardate che roba guardate badone che schifo però mi non so poverina no 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 ma non è che morre quella bestia qui no no non morre poverina allora adesso io finisco il filmato aspetta la salamandra è la nostra salamandra siamo in paese ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti